A Napoli, nell'ambito dell'Art Performing Festival, esibizione dell'artista Riccardo Matlacas, originario di Scampia, che ha percorso il tratto di strada tra Piazza Bellini e Piazza Dante, avvolto in una gabbia di filo spinato e rose e rosse tra la curiosità di tanti passanti e spettatori. Ora a Pompei, nelle gallerie restaurate dell'Anfiteatro, anteprima della mostra dedicata ai Pink Floyd.